Come aiutare una persona che sta pensando al suicidio. Il suicidio è un problema serio che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. È importante essere consapevoli dei segnali di avvertimento del suicidio e di come aiutare una persona che sta pensando di farla finita. Segnali di avvertimento del suicidio. I segnali di avvertimento del suicidio possono essere verbali, fisici o comportamentali. Alcuni segnali di avvertimento comuni includono Parlare di suicidio o di voler morire Cambiamenti nel comportamento, come ritirarsi dagli amici e dalla famiglia o perdere interesse nelle attività che erano una volta piacevoli Cambiamenti nell'umore, come sentirsi depressi, ansiosi o senza speranza Cambiamenti nelle abitudini alimentari o del sonno Donare o regalare oggetti personali Prepararsi a morire, come fare testamento o scrivere lettere di addio Come aiutare una persona che sta pensando al suicidio Se sei preoccupato per il benessere di qualcuno che conosci, è importante parlargliene Ecco alcuni suggerimenti su come aiutare una persona che sta pensando al suicidio Ascolta attentamente la persona e non giudicarla Prenditi sul serio i suoi pensieri e sentimenti Non cercare di risolvere i suoi problemi Incoraggiala a cercare aiuto professionale Offriti di rimanere con lei o di aiutarla a trovare un amico o un familiare che possa essergli vicino Ecco alcuni esempi di cosa puoi dire a una persona che sta pensando al suicidio Capisco che stai attraversando un momento difficile e che ti senti sopraffatto Voglio aiutarti Mi dispiace che tu stia soffrendo Sono qui per te Non sei solo Ci sono persone che ti amano e si preoccupano per te C'è aiuto disponibile Ti prego, non arrenderti Se ti senti insicuro su come aiutare una persona che sta pensando al suicidio Puoi rivolgerti a un professionista della salute mentale Ecco alcune risorse che possono essere utili Linea telefonica nazionale per la prevenzione del suicidio 1-800-273-8255 Crazy Text Line Invia home al numero 741-1741 National Alliance on Mental Illness NAMI 1-800-950 NAMI 6264 American Foundation for Suicide Prevention AFSP Https2.com www.ba.ha.fsp.org 3000 www.bbar.ac.il Grazie a tutti.